La conferenza di pace sulla Siria, che avrebbe dovuto tenersi entro giugno, è ancora lontana e difficilmente si svolgerà prima di agosto. Per partecipare, i ribelli, che affermano di aver conquistato una postazione militare strategica nel sud, vicino a Deirah, chiedono l'assicurazione che il futuro del paese sia senza Assad, mentre la Russia accusa. Il recente massiccio invio di armi all'opposizione significa che di fatto c'è una condizione preliminare, sostenuta dall'Occidente e da altri paesi che stanno pianificando questi rifornimenti. Ciò contrasta con il principio che la conferenza dovrebbe cominciare senza precondizioni. Il conflitto siriano ha intanto spinto le Nazioni Unite, che giovedì hanno rinnovato il mandato dei caschi blu dispiegati da decenni sul Golan al confine con Israele, a disporre maggiori equipaggiamenti per le forze internazionali.